Passeggiare con un panorama mozzafiato e il cattivo odore dei rifiuti. Succede anche questo a Torre del Greco, dove le lamentele dei cittadini per la presenza della spazzatura sono ormai all'ordine del giorno dal centro alla periferia. Sul mollo di ponente del porto si è creata da giorni una vera e propria discarica a cielo aperto. Siamo stanchi delle scuse, mancano i controlli. In questa città non cambia mai niente. C'è rabbia mista rassegnazione nelle parole dei torresi ai microfoni di TV City. È una schifezza, è un degrado. Da quanti giorni è qua depositato? È già da più di un mese. Da più di un mese tutta questa spazzatura? Sì, sì. Questo porto adesso è frequentato anche da turisti? Sì, delle belle spuse, vengono a fare delle foto, tante belle cose. Lei non si sente indignato a vedere questa spazzatura? Sì, sì, sì. Non è il sindaco di Torre del Greco, è la gente che mette quella spazzatura. Il porto è un biglietto di ingresso per la città, arrivano anche i turisti in questo periodo? Sì, siamo in quattro, i turisti francesi. Sì, qualcuno che parlava inglese. Facciamo ancora un appello al sindaco. E che dobbiamo dire? Giovanni, vedi di togliere questa spazzatura da terra. Non è solo una questione del porto, è una questione di tutto il territorio del Greco che sta grovinato così. Non è una questione che la spazzatura del porto, se va in città, se non ci fossero quei quattro persone di colore, che vanno a pulire e prendono quei spiccioli di Torre del Greco, ci fossero due strade di immondizia per terra. Non si prende una soluzione, non si riesce a fare niente. Ogni cittadino paga due o trecento euro di tasse all'anno per la spazzatura. Non ci stanno scuse. È inutile parlare, dobbiamo la ditta, può fare questo, non può fare questo. Il cittadino non ha colpa, perché se tu metti dei controlli e metti le telecamere e prendi le persone che vanno a gettare la spazzatura e il cittadino paga il verbale, la multa, quello che deve pagare, Torre del Greco sarebbe la città più pulita del mondo. Ma siccome sono delle persone incapaci di fare questo servizio qua, allora non si può fare niente. La spazzatura sta ovunque. Lei non si sente indignato come cittadino? Indignato. Io sono una delle persone che soffro proprio per questo fatto qua, per la spazzatura. Infatti io ho parlato pure con una persona del comune, non si riesce a trovare una soluzione per la spazzatura. Dicono sempre sì, 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 però il problema è sempre quello. Ci sta la spazzatura, non ci stanno gente che puliscono per le strade, non ci sta sorveglianza. Ognuno fa quello che vuole e questo è.